Musica Uè bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video Io sono Xyuder e ragazzi oggi abbiamo delle news davvero fondamentali per ogni buon gamer Che si rispetti? Eh sì ragazzi perché ieri nella prima serata, seconda serata indicativamente È arrivato finalmente l'annuncio dell'uscita di PS5 Direttamente dal tweet di Playstation ne parleremo subito Fortnite ha fatto uscire il suo trailer per questa next gen Ma parleremo anche del Fortnitemers, parleremo anche del compleanno e di tanto tanto altro Prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop Con il mio codice creator Xyuderone Grazie mille ragazzi per il vostro sostegno Mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali E soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news E allora andiamo direttamente a parlare del primo grande argomento di oggi Ed ecco qua ragazzi direttamente dalla pagina twitter ufficiale di Playstation See you in novembre Ci vediamo a novembre Chiaro, secco, sbam Accompagnato da questa immagine Che ci fa vedere le due versioni di PS5 Quella digitale e quella con i dischi fisici in poche parole I prezzi sono notevoli Si parla di una base da 399,99 Quindi 400 euro per la digital edition Mentre siamo a 499 euro per la versione quella con i dischi fisici Ovviamente l'immagine l'avete già vista tutti La conoscete E quindi ragazzi il 12 novembre è l'uscita ufficiale ragazzi della PS5 Uscirà negli USA, Giappone, Canada, Messico, Australia, Nuova Zelanda, Sud Corea Mentre il 19 quindi una settimana dopo per il resto del mondo Ovviamente avrete già visto alcuni dei grandi titoli Che sono in arrivo subito al day one Non ci sarà GTA 6 se vi lo state chiedendo Ma ieri Fortnite ovviamente non lascia passare neanche 5 minuti E ci accompagna con questo trailer che annuncia ovviamente al day one L'uscita di Fortnite su PS5 con tanta tanta roba Voglio farvi vedere delle immagini E poi il trailer abbiamo tutta una grafica nuova Ovviamente stanno già testando Ne abbiamo parlato anche ieri L'RTX e ovviamente la Real Engine 5 Quindi il nuovo motore grafico Che spingerà a livelli veramente mai visti Il capolavoro di Epic Games Guardiamo insieme il trailer Ci sono tante cose nuove in questo trailer Che si vedono Abbiamo visto due nuove skin Abbiamo visto il nuovo suono Anzi abbiamo sentito Il nuovo suono dell'RPG Tornerà la Chug Jag Con un'animazione completamente diversa E ovviamente poi tutto il comparto grafico Quindi ancora un paio di mesi di pazienza E poi potrete se acquisterete la PS5 Giocare a Fortnite Ad un altro livello E andiamo avanti a parlare del prossimo Argomento di oggi Perché volevo delucidarvi Sull'argomento di cui abbiamo trattato ieri Altrettanto importante Il Lama Rama di Rocket League Come sapete Il 24 settembre Rocket League arriverà in maniera Completamente gratuita Nello store di Epic Games Quindi ragazzi non è necessario In questo momento Se volete provarlo E acquistarlo ovviamente Da altre parti Perché ovviamente è ancora a pagamento Vi ricordo che sembrerebbe Siano in arrivo anche Dei premi Associando il vostro account Epic Games A quello di Rocket League E io non ho ancora avuto Il modo di scaricare il gioco Ma questa è la schermata Che dovrebbe apparirvi Non appena avrete connesso Il vostro account Quindi credo che dobbiate Semplicemente Cercare una voce Nel menu principale Ieri alcuni hanno avuto Dei problemi Quindi non vi preoccupate Se non ce l'avete fatta Riprovate ancora Perché si vede che il traffico Era notevole Quindi ci sono stati Appunto Dei disguidi Arriverà tra l'altro Con due nuovi pack Li abbiamo visti ieri Quindi non sto a ripeterveli E quello che ci fa Un pochettino piacere È che molto probabilmente Arriverà Una volta linkato Rocket League E quasi certamente Giocato Per un periodo di tempo Due nuovi Due nuove ricompense Uno standardo Che dovrebbe essere La ruota Della macchina E un Contrail Quindi una scia Tutta nuova Che potrebbe essere Quella del Fumogeno blu Che esce Come tubo di scappamento Quindi tanta roba Un gesto veramente Meraviglioso Avere Rocket League A titolo Totalmente gratuito Un grazie ad Epic Games Per regalarci Questa meravigliosa Cosa E andiamo avanti A parlare del prossimo Argomento di oggi Perché ci sono Anche degli aggiornamenti Sul Fortnite Mers E si ragazzi Perché Oramai E' vero Che manca Ancora un po' Ad Halloween Però sappiamo Quanto Epic Games Senta L'evento Del Fortnite Mers Sul suo Titolo Di punta Ne abbiamo Già viste Tantissime Negli anni Precedenti Poi sappiamo Che tornerà Ovviamente Il lanciazucche Arriveranno Tante altre cose Questa è la schermata Del Fortnite Mers Del 2019 Dove uscirono Tutti i calciatori Zombie E tante altre skin Ma ieri pomeriggio Sono state aggiornate Due voci Nella cartella Dedicata Nei file di gioco E sono More shop Tab strings Added recently Quindi sono state aggiornate Due voci Dello shop Start the party E spooky Offers Dovrebbero essere dedicate Al Fortnite Mers Alcuni elementi Che ce lo fanno capire Sono lo start the party Quindi inizia la festa E spooky Offers Spooky È un termine Che viene utilizzato Per indicare Qualcosa A tema Tetro Macabro Generalmente utilizzato Quando si parla Di Halloween Quindi Sono pronti Anche loro Si stanno Comunque preparando Aspettiamoci Di vedere Delle skin A tema E andiamo avanti Con il prossimo Argomento di oggi Perché ci sono Delle novità Per quanto riguarda Il compleanno Di Fortnite Che sappiamo Quest'anno Per la prima volta Cadrà Il 26 settembre Tutti gli altri anni L'han fatto Ad agosto Quest'anno Siete che erano Pieni così Di lavoro Han deciso Di dire Che si faceva Per festeggiare Il Battle Royale A settembre Questa ragazzi È l'immagine Ufficiale Della copertura Della copertura Che verrà Regalata Durante Quello che Si presume Sia Il periodo Dedicato al compleanno Con speriamo Anche Delle sfide Ve la voglio Fare vedere Va a completare Un set Davvero molto carino Il set di cui Mi sto riferendo Ovviamente È Il piccone E il backpack Che ci è stato Regalato Che ci sono stati Regalati Negli anni precedenti Chi lo sa Che il prossimo anno Non arrivi Magari una skin Dedicata al compleanno Come già esiste Su salva al mondo Quindi ragazzi Insomma Anche per oggi Tante tantissime novità Davvero Super Io vi ringrazio tantissimo Per avere guardato Questo video E mi raccomando Non dimenticate Di lasciare Un bel like Iscrivetevi Ai miei canali E a me mi trovate Alle 8 In live su twitch Ciao Ciao Ciao